Grazie a tutti. Grazie a tutti per la presentazione di questo straordinario evento che è appunto la Casalese. Antonella non ha bisogno di presentazioni, è una scrittrice straordinaria ma soprattutto coraggiosa in questa impresa che è appunto la Casalese. Una storia di donne intrisa anche di passione e anche di rivalza sia della donna in quanto tale ma soprattutto di una terra martoriata. Sì, infatti io era da anni, perché io vivo a Milano come tutti sanno, però come passo il Garigliano io sento un'aria diversa, mi ricordo i profumi di quando ero piccola. Ho avuto sempre questo, da 8-10 anni in qua avevo questa voglia di scrivere qualcosa, l'ho menzionata molte volte nei miei libri questa mia terra, parlando della religione, delle processioni, della cultura di questa magnifica terra, delle persone. Però volevo farne un film e mi sono messa a leggere, a studiare da una grossa operazione di polizia perché certo non posso fare un film suvi di ne può. Se volevo fare una cosa degna dovevo studiarmi una cosa eclatante come l'operazione Spartacus che è conosciuta in tutto il mondo. legge, metterci 5 anni perché dura da 10 anni questa operazione e tirare fuori qualche cosa, un personaggio femminile. Questo personaggio, questa era una ragazza figlia di un ferroviere, da bambino perché il film inizia appunto quando loro, quando i personaggi sono piccoli, conosce questo ragazzo, lui per anni, sin dalla fuori dalla scuola, fino a che la fa innamorare e si sposano. Purtroppo dopo sposati questa scopre che non è il figlio di questo grosso imprenditore che aveva un'impresa, alla luce del sole dove aveva un'impresa che è nel meridione, anche questa è una realtà, no? Anche questa fa vedere un'impresa qui in un posto, a Falciano, ma non mi ricordo come si chiamava questo paese, un'impresa così pazzesca, cioè non è che qui ci sono quelli che vanno a prendere i pomodori, qui ci sono anche delle culture interessantissime, fanno delle cose bellissime, quindi io ho cercato di fare vedere tutte queste cose belle, la boutique, la sartoria antica, la seta di San Levice, le città sommerse tramite un bambino alla casalese, tramite il piccolino perché scappavano per le montagne, mangiavano l'erba, lei faceva un gioco ludico col bambino e gli spiegava tutte le bellezze, questo volevo fare io, ho voluto fare un omaggio a questa terra bellissima. Io ho una chicca per i nostri ascoltatori, ce l'ho qua a fianco a me, lui è, a mio avviso, l'attore protagonista a tutti gli effetti. Però adesso c'è Vincenzo, non sei più Italo, ricordate che in questo momento c'è Vincenzo. Adesso lui è Vincenzo, non è Italo, quindi non è il personaggio, ma è il bambino che ha girato per la prima volta un film, cosa ti è rimasto di questo? Per me è rimasto che è stata una grandissima esperienza per me fare questo film, perché era un bel film, anzi non un bel, era un bellissimo film per me perché io sognavo di fare questo film, cioè visto che io lo sognavo, hai realizzato questo sogno e voglio ringraziare anche tanto Andronella D'Agostino che mi ha fatto partecipare in questo film. Buonasera amici e amiche, siamo con Noemi Cognini che è l'attrice protagonista di questo straordinario film che è la Casalese e non è la solita rivisitazione, diciamo, dell'esaltazione della criminalità o delle negatività che ci stanno in un'area già abbastanza degradata come quella là della terra dei fuochi e anche quindi di Mondragone, ma esalta la straordinaria bellezza della donna all'interno di questo scenario. Sì esatto, come diceva lei il tentativo di Andronella D'Agostino è quello di ricostruire uno scenario assolutamente positivo della nostra regione campana e di presentare la femminilità attraverso delle caratteristiche che sono delle caratteristiche importanti da tenere, insomma, da dare in risalto. Una donna molto forte che combatte contro la camorra, si oppone anche a questo tentativo continuo di volontà di rapimento del bambino, si oppone anche a un certo punto allo Stato, poi, insomma, senza entrare troppo nei dettagli altrimenti sveliamo quello che è la narrazione del film e una donna estremamente, come abbiamo detto, forte, piena di valori e quindi assolutamente un messaggio positivo da lanciare per tutte le donne che combattono anche contro questi tentativi di estorsione e contro comunque delle situazioni non positive. Donna Sisina che cosa fa in questo film? Donna Sisina è una delle tante donne forti di questo territorio che è Mondragone. Ci troviamo qui in questa terra dove spesso se ne parla male, ma qui in questa terra di Mondragone ci sono tante cose belle. Non c'è solo guerra, non c'è solo fuoco, ma ci sono tante cose belle da vedere. E questo Antonella D'Agostino l'ha scritto in questo suo futuro libro, perché uscirà anche un libro di questo film che è La Casalese, dove spiccano molto i ruoli femminili, tra cui La Casalese che è un personaggio vero, il personaggio di Maria che è la protagonista e io sono la coprotagonista che è Donna Sisina e sono donne forti di questa terra. Il mio personaggio è un personaggio forte, ma lo diventa forte perché ha subito tanta di quella violenza dal maschio, per cui diventa un personaggio forte. Ed è lei che comanda un po' il carcere femminile, tiene un po' tutto a bata, tutto in ordine, ma aiuta La Casalese ad uscire, si riscatta un po' ad uscire da questo carcere e quindi l'unico compromesso che lei fa un po' con la vita si riscatta un po' con la sua vita che tanto ha subito dal suo uomo. Non si vede forse alla fine di questo film di quanta violenza lei abbia potuto subire e si riscatta proprio con questa donna che è La Casalese che la fa uscire da questo carcere, quindi è un personaggio animalesco, un personaggio fragile, un personaggio passionale, carnale, è un bellissimo personaggio e tutto il film gira un po' intorno alla fragilità anche della Casalese che poi invece si ritrova a crescere man mano, ad essere una donna forte, a proteggere suo figlio, a proteggere le tante cose belle di questa terra, come lo sono tutte le donne di questa terra. è un bel film, si rifaranno alcune cose, per ora è stato bloccato ma lo riprenderemo alla grande. Quindi grazie Antonella D'Agostino per aver dato la possibilità a questa terra di potersi esprimere che lo ha scritto e lo ha diretto, non dignitosamente, magistralmente. Siamo con Domenico Balsamo, attore maschile, protagonista, diciamo non il cattivo ma è il boss. Niente, praticamente io faccio il protagonista maschile di questo film, come è stato detto prima, che è un po' una figura abbastanza, dicevo prima, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché apparentemente ha una vita perfetta, una famiglia perfetta che non sa assolutamente nulla di quello che poi alla fine fa e quindi ha un'evoluzione che lascia un po' tutti così di stucco. E niente, questo, si mette in scena, perché attorno a questo personaggio ruota tutto un lusso, un lusso che inevitabilmente queste persone hanno e cerchiamo di rendere il personaggio proprio nel contesto perfettamente come, insomma, abbastanza verosimilmente a come è stato proprio scritto, che non è proprio facile. Perché poi... No, infatti su questo devo dire che sei stato straordinariamente bravo ad interpretare questo doppio ruolo, diciamo, della figura del boss, però anche del marito molto... Sì, altruoso, sì, 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 no, grazie, straordinariamente, però ce la mettiamo tutta, però giochiamo proprio su questo, giochiamo sull'ambiguità di questa persona, quindi quanto più ambigua è, più credibile è. Siamo con l'ispettore Bevilacqua, Arturo Sepe. Arturo, va bene, non ha bisogno di presentazioni, Arturo, questo film è un film particolare, non racconta la solita storia di Camorra, ma è intrisa di storie all'interno della storia. Sì, infatti, io sono stato felicissimo di sposare questo progetto di Antonella D'Agostino, la Casalese, proprio per questo, perché si colloca nel bel mezzo, insomma, di uno spaccato storico del nostro paese, quindi fatti di cronaca, quindi con l'operazione Spartacus, tra l'altro ringrazio Antonella per avermi dato questa occasione, insomma, di poter dare volto a questo ispettore Bevilacqua che è a capo di questa operazione Spartacus che poi realmente è accaduta. La cosa bella di questo film è che oltre a parlare di cronaca parla di sentimenti, parla di persone vere, parla del nostro... Anche di coraggio. Anche di coraggio, certo, le scelte fatte appunto dalla Casalese, le scelte fatte poi dall'ispettore Bevilacqua, insomma, sono delle scelte profonde, scelte umane, che prendono e mettono le radici nel nostro paese, nella nostra napoletanetà, nel nostro essere partenopei, quindi un film molto, molto sentito, molto presente. Anche da cui l'ha interpretato, praticamente? Io tutti i progetti a cui dico di sì è perché li sento in parte miei, quindi alla fine se scelgo di fare un progetto è proprio per questo, ecco, in questo caso, di portare e mettere alla luce avvenimenti storici e di cronaca del nostro paese, e quindi io ho subito detto di sì. Va benissimo, ringraziamo l'ispettore Bevilacqua, tu lo sepe chiaramente, e ancora una volta invitiamo ad andare a vedere questo film che è veramente una bella storia.